Ciao ragazzi, oggi puro intrattenimento. Questo è un video di, diciamo, un collage delle varie clip di momenti più esilaranti o più divertenti dell'anno scorso. Ringrazio un sacco Salvatore Logica e i sub per il lavoro svolto, per questo filmato. Due cose importantissime, divertitevi e non pensate al contenuto di questo video, perché sono chiaramente clip estrapolate, decontestualizzate, eccetera. E soprattutto se sentite nominare spesso un utente, sappiate che è un meme, diciamo così, del canale, cioè su Twitch, soprattutto, e in realtà è un abbonato, è uno che mi segue da 5 anni, quindi non c'è nulla contro, non cito, ma contro quell'utente che sentirete nominare. Ragazzi, divertitevi e poi ditemi nei commenti qual è lo spezzone, il momento che vi ha più divertiti, oppure che ricordate se l'avete anche visto in diretta, magari su Twitch. Ciao ragazzi, buon divertimento. 1-0 Atalanta, 1-0 Atalanta! 1-0 Atalanta, 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 1-0 At al tecnico dirigenza Pensate che vogliono in un commento letto per me barella e ce l'annogulo il migliore in campo porca puttana C'è voglio morire capito no c'è Datemi l'acqua qua me la verso addosso Iconne fa correre dodò che può spingere si inserisce Ternandesa riposizione dodò il secondo palo Pagò l'incredibile di Iovic 2-0 2-0 Fiorentina Godò Rikitab santo cielo ogni volta sei sempre tu ma 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 no maresca Rikitab N'è un po' un portone sei Chi è quello di Tomori pressalo Baccayoko pressalo C'è Ibrimi pressalo bravo in anticipo quello lì ad lì pressalo Pressalo adesso arrivano i cambi pressate tutti Pressalo quello lì chi è quello lì fammi vedere Baccayoko pressalo Che orichi pressalo 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 ancora Baccayoko pressalo io sto qua Sale Meccar pressalo Brenner recuperato il pallone palla lunga No lunga così però vaffanculo C'è Magnan pressalo Magnan Infatti un'altra cazzata che pronta pronta per fare l'inter pronta Marotta è sempre quando c'è la cazzata Cazzanger Cazzanger il nuovo mistero del della dirigenza dell'int Cazzanger la nuova cazzangerata di Marotta è Scalvini al posto di Skriniar Attenzione Ken rosso Rosso Ken è entrato Fuori Ken Mamma mia Il pozzisco E' entrato Ken Un secondo espulso Mamma mia Mamma mia ragazzi Ken che coglionazza Cod'è sto Il ballerio di Dumfries quanto punto d'uomo è leggendario è certo C'è cazzo si è messo così ma l'avete visto? Cioè Perché poi voi non vedete ma la mano così Ma dai ma che roba è? Ma basta ma non il calcio non è palleggiare da fenomeno è giocare all'interno in contesto è uno sport di squadra Hermes ma quanti soldi ti dà l'Inter per difendere in zaghi dopo undici fottute sconfitte e dire tutte queste cazzate Datti all'ippica bro Ascoltami non è per te Va bene vai tranquillo Tu vai al volley invece che insomma ecco Vabbè questi sono provocatori Comunque grazie mille dei bit mi fa molto piacere Comunque per scrivere questa puttanata 100 bit Quindi almeno un euro Grazie Accettato per il resto puoi accomodarti Io qui tutti i giorni Mi sveglio e penso Puttana gosens Mi addormento puttana costice Puttana gosens Tutti i giorni Tutti i giorni da un anno E tre mesi Ma devi sempre rompere il cazzo Un conto è sbracciare Un conto è con tutta la forza L'ira La cattiveria che è in corpo Fare Insultare uno Lo capisci questo Devo sempre spiegarmi con i gesti Con queste robe qua No no C'è un metro C'è un po' un colore Ci sono i grigi, i bianchi, i neri Ecco Calabria Allegri No Sono tizi Che quando fanno queste sfugliate Anche recentemente ha fatto una partita Allegri Iove Non mi ricordo cosa Dove impazziva in maniera Cioè E sembrava da esorcizzare Cioè un pazzo Non è che faceva Così Dalla da Elmas Oh la Elmas bella dentro Secondo palo Eccolo lì il tiro Go del Napoli Eccolo L'ho detto ragazzi Dalla a Elmas Dalla di qua Che lì Dalla di qua La data mi ha ascoltato Palla di là Secondo palo Goal Il cazzo moto Contro il nulla E con Inzaio siamo a Istanbul Ciruno 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 Brozovic gli piace Brozovic va il PSG Ci danno i soldini cash buoni Li vendiamo anche i Doomfries Pacchetto Pensate che roba che sto dicendo ragazzi Maddono Santissimo Brozovic più Doomfries Pacchetto completo Ottanta milioni Ottanta puri E che ti danno Ottanta cash Ci metti dentro No guarda Non lo vogliono Ci metti dentro Mucchiele Abbassi la quota A 55 55 55 Più Mucchiele Ai Savic Liberato Brozovic Aslani valorizzato Cial L'hai messo dietro Mucchiele Posto di Scumfries Hai fatto le plusvalenze Hai completato tutto quanto E poi ci sono le commissioni a Hermes 2% sull'affare totale da parte di Marotta Così Chiudo il canale e vado ai Caraibi Vediamo questa punizione del Napoli Ma c'è Magnani in porta che è un fenomeno e quindi difficile segnarli Però attenzione Vediamo Eccolo lì L'ho gufata benissimo L'ho gufata benissimo Gol del Napoli Imparabile Tiro una bomba sul lato L'ho pensato Finchè lo stavo dicendo Dico prima che calci che magari porto Eccola lì La gufation ragazzi Ha funzionato benissimo Le vostre cartucce Le vostre cartucce Hanno veramente Fatto il botto sto giro Quanti pokemon ha il Genoa? Che significa? E' un meme? Eh ma è Lukaku che ci ha scombinato i piani Ma vaffanculo Vaffanculo Cioè l'Inter Lukaku non doveva essere un piano dell'Inter Se tu Se Lukaku Non era Non fosse stato un tuo piano Non poteva rovinarti i piani Il punto è che tu te li sei fatti rovinare Perché hai scelto che quello era il piano Allora ciao Hermes L'Inter questa sera fino al settantesimo Non girava Non girava Non erano loro L'hai detto bene a te nel video Ma io volevo soffermarvi anche sugli errori tecnici dei singoli E io no invece Cioè ogni volta tu sei proprio la mia Nemesi Sei contrario di tutto quello che Del mio ragionamento Sei sempre contrario Si l'Inter non è Ma io vorrei forse fermarmi sugli errori dei singoli Ma vaffanculo Se però è tattico ed è corale Cazzo ha senso andare sugli errori dei singoli Vabbè comunque Andiamo avanti Che hanno 30 secondi Perché si è allungata la partita Attenzione Ah è finita È finita Uuuu 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 Ma purtroppo qualche valvola che ogni tanto Uuuu 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 Al tuo meme Cioè devo devo Capito Cioè bisogno Ma non solo io Penso tutta la cia Che vogliamo capire chi sei Cioè dammi Mandami una foto La mettiamo qua E ogni volta che scrivi un messaggio Mettiamo la foto Cioè secondo me È un po' un meme Ormai è diventato un po' un meme Del canale Vorrei fare anche La cosetta La mezza live Del Della Juventus Ciao ragazzi Buonanotte Buonanotte Sì no ma lei è ubriaca Cioè si Sei bevuta Si Si vede Hai un po' il Sei partita Ok Già sentite come è entrato in casa Il passo Ho già sentito che Vabbè Che era un po' Che era andante Quindi ho detto spero che venga di qua Ecco è bevuta Ciao ragazzi